Non si senta umiliato, è un servitore dello Stato, sui miei il movimento fa accertamenti ogni mese, l'importante è non trovare nulla. Da questo messaggio che avevano anche i giornali Corriere, Repubblica e Messaggero che stamattina... Intanto lo vediamo, eh, onorevole, lo legge anche lei con noi, sul blog. ...hanno fatto dei titoli facendo credere che Luigi Di Maio volesse mantenere Marra nello staff della sindaca. Allora, io penso che il livello di attacco nei confronti del Movimento 5 Stelle sia arrivato a un livello che non era mai arrivato finora. Io ho contezza di pensare anche che se Luigi Di Maio fosse donna probabilmente riceverebbe gli stessi attacchi sessisti che ha ricevuto settimana scorsa il sindaco Raggi che è stata definita per esempio patata bollente e è stata addossata al sindaco una serie di relazioni di cui nessuno ha potuto comprovare niente perché sono complete menzogne e se il livello di attacco è di questa natura nei confronti del Movimento 5 Stelle io penso che la domanda che i cittadini si stiano facendo è perché. Io a questa domanda mi sono dato una risposta nei confronti di Virginia Raggi perché il no alle Olimpiadi ha tolto degli interessi a molti, ai palazzinari romani, a persone come Caltagirone. E questo per Virginia Raggi, nei confronti del Movimento qual è la sua risposta onorevole? Perché poi vorrà sentire anche la Morani, cioè perché c'è quest'attacco secondo lei? Anche a Caltagirone stavo finendo che possiede il giornale stesso il messaggero quindi essendosi visto togliere l'interesse delle Olimpiadi utilizza il giornale per attaccarci. Gli editori ormai non sono editori puri, ossia ogni editore ha degli interessi privati e cerca di portare avanti degli interessi privati. In generale contro il Movimento 5 Stelle perché onorevole? Il Movimento 5 Stelle se avrà la possibilità di andare al governo e quando andrà al governo farà delle norme per tutelare la collettività e gli interessi dei cittadini. Finora a questi interessi privati è stato dato il benestare del Partito Democratico e del governo. Scusi onorevole, però lei ci stava dicendo perché ce l'hanno con voi? Cioè perché la stampa è killer, la misura è colma come dice Beppe Grillo. Contro Virgilio abbiamo capito le motivazioni che lei ci dà, in generale contro il Movimento perché? L'obiettivo è quello di togliere credibilità al Movimento 5 Stelle che finora ha detto cosa avrebbe fatto e ha fatto quello che ha detto in campagna elettorale. Ok, onorevole Morani, è esattamente come dice Sorial. Poi torno da lei, abbiamo ancora un quarto d'ora, non si preoccupi onorevole. L'obiettivo è togliere credibilità al Movimento fondato da Beppe Grillo, visto che Roma è considerata un po' la prova generale per il governo nazionale. È così, non è così? Che pensa lei? Mi pare che la credibilità se la stiano togliendo da soli perché nessuno ha costretto la Raggi a nominare il servitore dello Stato, Marra come lo definisce in quegli sms di Maio, vice capo di gabinetto e poi a capo del personale, da cui secondo la procura Marra insieme alla Raggi avrebbero commesso l'abuso d'ufficio per la promozione del fratello dello stesso Marra. Nessuno ha costretto la Raggi a nominare tale Romeo come capo della sua segreteria e a triplicargli lo stipendio. Le ragioni del complotto fanno sinceramente sorridere perché stanno facendo tutto da soli. I loro guai derivano dalle loro guerre interne, da dossierargi che sono iniziati in campagna elettorale, come lo stesso De Vito è stato vittima, da Berdini che addirittura rivolgendosi ad un giornalista dice sono amanti Raggi e Romeo, scrivetelo ma non dite che ve l'ho detto io. Allora, la domanda è il loro vittimismo è giustificato o no? No, perché si stanno facendo tutto da soli. I giornali fanno il loro mestiere, non fanno nient'altro che riportare delle notizie. Tra l'altro nel riportare questa mattina la notizia dell'SMS di Di Maio, la stampa, cioè Repubblica e il Corriere, non ha commesso nessun falso perché si è limitata a dire quello che c'è scritto, perché se Dio vuole le parole volano ma gli scritti rimangono. Ed è un fatto che un signore che in questo momento è in carcere, arrestato per corruzione, qualcuno l'ha definito uno dei suoi servitori dello Stato ed è stato promosso capo del personale dentro i campi d'oglio. Quando la sindaca ha provato a definirlo uno dei 23.000 dipendenti, quando decideva assieme a lei nella famosa chat dei quattro amici al bar insieme allo stesso Romeo i destini di questa povera capitale che sotto gli occhi di tutti è distrutto. Oh, allora, onorevole, a nord del vero torniamo sul blog, lo vedete, sui miei si intende chiaramente i suoi collaboratori, questo lo ripete, lo sottolinea Beppe Grillo nel suo blog. Assolutamente, perché io penso che... Sì, ma è meglio ripeterlo perché si sta andando perché la Morani ha utilizzato questa tesi che ti renda... Sto leggendo, aspetti, Soria, perché devo fare un'altra domanda alla Morani, parla delle guerre intestine nel Movimento 5 Stelle, le chiedo però, da voi, che succede? Posso solo rispondere, posso prendere... Un attimo, onorevole, abbia pazienza. Non riesco a rispondere a me. Allora, la Morani dice che ci sono delle guerre all'interno del Movimento 5 Stelle, una lotta di correnti, non posso non chiederle, visto che Bersani ha appena detto la scissione da noi è già fatta a proposito di dialettica nel partito, anzi, ha detto di più, forse all'Assemblea non ci andiamo. Che significa questo, Morani? Significa che nel Partito Democratico c'è una dialettica interna molto trasparente. Ieri si è potuta vedere in streaming la direzione del PD, invece del Movimento 5 Stelle purtroppo apprendiamo notizie attraverso chat dalla magistratura, quindi siamo un po' agli antipodi. Dopodiché noi sabato faremo l'Assemblea. Ieri la mozione del segretario è passata con praticamente l'unanimità perché hanno... Domenica è l'Assemblea, gli ho ricordo tante volte, poi si sbagliasse il giorno. Domenica mattina sarà l'Assemblea dove convocheremo i nostri militanti che fanno parte dell'Assemblea dove si deciderà il percorso ad attuare. Ma la scissione è già fatta, già esiste di fatto o no, come dice Bersani? Cioè che qualcosa ormai si è rotto, bisogna usare il buonsenso, la responsabilità, soprattutto in nome del Paese. Noi naturalmente ci auguriamo che la scissione non avvenga mai perché noi vogliamo che il PD rimanga unito. Domenica noi affronteremo questa Assemblea e mi auguro naturalmente che lì vinca uno spirito unitario, che si applichi il buonsenso. Chiaro, chiaro. Allora, Soria, tornando invece al Movimento 5 Stelle, c'è chi vi dice, beh, tutto sommato, insomma, questa è un po' una tattica per sviare dai problemi che sono quelli della Capitale, che rimangono sul terreno e sul campo, senza dimenticare che il posto dell'assessore all'urbanistica in questo momento è congelato, quindi stiamo aspettando la sostituzione di questo ruolo indubbiamente importante, visti anche i prossimi appuntamenti ad iniziare l'altro in marzo, quando la pratica del nuovo stadio si dovrebbe chiudere. Ecco, come rispondete a questo però? Abbiamo detto in campagna elettorale, per esempio, che avremmo ridotto gli sprechi, è il simbolo anche di tagliare la carta di credito e aver trovato 40 milioni di sprechi eliminati fin da subito dal sindaco Raggi, sono l'esempio che quello che diciamo in campagna elettorale lo portiamo avanti. Abbiamo detto che avremmo avuto una visione di trasporto pubblico migliore per la città e un servizio migliore per i cittadini romani e i 470 milioni di investimenti messi sul trasporto pubblico ne sono la dimostrazione. Avevamo detto che avremmo avuto una visione, che abbiamo una visione, abbiamo delle strategie per la città di Roma e queste strategie, così come negli altri comuni che stiamo amministrando, le stiamo mettendo in atto, ci attaccheranno, ci continuano ad attaccare, ma poi i risultati si ottengono e si vedono, così come anche proprio in questi giorni si stanno riasfaltando completamente le strade, non si stanno solo tappando le buche, ma si stanno riasfaltando di nuovo perché dopo sei mesi, che è il tempo che serve per avere i bandi per trovare per l'appunto le aziende che si occupino di questa, una legge europea, si è passato da questo punto di vista. Allora, questo è quello che noi stiamo facendo. Lo streaming, che abbiamo visto ieri invece del congresso, ci dimostra il ricatto a cui il Paese è completamente della direzione del Partito Democratico, a cui il Paese è sottoposto da quattro anni a questa parte, perché invece di farci vedere uno streaming in cui avrebbero parlato dei risultati per il Paese, o meglio, avrebbero potuto anche dirci del perché oggi mettono l'ennesima fiducia sul diciottesimo provvedimento per le banche, hanno parlato delle loro correnti interne e delle poltrone. Noi per carità, lo streaming abbiamo deciso che è una scelta, non lo facciamo per il semplice motivo che adottiamo delle strategie per contrastare, nelle nostre riunioni, per contrastare proprio quello che fa il Partito Democratico. Un esempio ancora su tutto è il fatto che noi cerchiamo sistematicamente di bloccarli proprio dal portare avanti dei provvedimenti come quello che ha regalato 20 miliardi di euro a MPS, soldi pubblici dei cittadini italiani. Lei credo che abbia un conto in banca, no? Certamente, ce l'avrà anche lei sicuramente. Ce l'abbiamo tutti, vede, i 20 miliardi dati alle banche non sono stati dati ai banchieri, ma sono state una misura per tutelare i risparmiatori di quegli istituti bancari che se non ci fosse stato un intervento avrebbero perso i soldi che avevano depositato in banca. Quindi questa vostra rappresentazione mi permetta un po' fumettire. Questo è un favore alle banche e basta. Cortesemente, mi lasci finire. Quest'idea per cui i soldi sono stati dati ai banchieri, quelli col cilindro, sono state misure necessarie per sostenere risparmiatori che avevano i loro risparmi in banca. Quindi lo spieghi a quei risparmiatori che la posizione dei Cinque Stelle era quella di lasciar fallire quelle banche. Ma lo spieghi a lei, gli italiani disoccupati a chi il conto in banca non ce l'ha in questo momento. Se la vostra posizione è lasciamo fallire le banche nelle quali centinaia di migliaia di italiani hanno i loro risparmi, noi non è la nostra posizione, noi abbiamo tutelato quei risparmiatori e siamo anche orgogliosi di averla fatto e lo rifaremmo perché non sono soldi dati ai banchieri. Mentre loro invece continuano a parlare delle loro cose, della legge elettorale. Lei lo sa, lei lo sa, che sono quattro anni che si sta parlando di legge elettorale. Ma io lo so bene, lo raccontiamo tutti i giorni, onorevole. Lo sappiamo entrambi. Mi lascio solo, concludo, concludo un secondo. Queste persone che in broadcast, in tutte le televisioni vengono a dirci che non siamo capaci, che siamo incompetenti, sono quelli che si sono visti bocciare la legge elettorale tant'è che ci sono risvolti dell'Italicum e noi abbiamo fatto in modo che questa legge elettorale potesse essere subito applicata anche al Senato per andare al voto il più presto possibile. Queste persone si sono fatti bocciare la riforma della pubblica amministrazione dalla Corte Costituzionale. I cittadini hanno bocciato il referendum costituzionale su cui il Partito Democratico nella sua interezza aveva messo la faccia e verrà bocciato, probabilmente ed è anche per questo che loro sono un po' in tensione, anche il Jobs Act perché non ha combinato niente, anzi ha indebitato ancora di più gli italiani, tant'è che oggi gli italiani dopo quattro anni di governo Renzi sono indebitati di altri 122 miliardi di euro che non hanno portato alcun beneficio perché io sfido che lei chieda ai cittadini se hanno tratto beneficio negli ultimi quattro anni dalle mancette, dalle marchette elettorali di Renzi, ecco siamo costretti oggi come cittadini italiani a pagare di più, a pagare più tasse, c'è una manovra in arrivo da 3.4 miliardi che ci farà pagare ulteriori accise e questi sono i capaci della politica, questa è la situazione dove ci hanno portato. Ha visto che però un dato incoraggiante c'è stato, quello sul PIL più 0,9%, questo è il Siamo gli ultimi in Europa, siamo gli ultimi in Europa, persino la Grecia fa meglio di noi, ci rende punto. Senta, come avete preso la notizia storia, almeno chiedo anche alla Morani rispetto alla finestra elettorale che sembra davvero slittare a fine legislatura, quindi voi che avete sempre detto andiamo a votare il più presto possibile con il cosiddetto legalicum, quindi con quello che è uscito dalla sentenza della consulta, l'italicum ha modificato, sono uscite anche le motivazioni, mi sembra che la strada non sia questa onorevole, quindi scadenza naturale, si aspetta la fine del governo Gentiloni? Ebbè, ma lo ripeto, l'abbiamo visto ieri, hanno un interesse che non è l'interesse collettivo del benessere collettivo del Paese, ma è un interesse relativo alle correnti e alle faide del Partito Democratico. Io le cito una cosa che è stata detta ieri che dovrebbe fare i titoli di ogni giornale, ieri Renzi ha detto ai suoi del Partito Democratico, voi che vi occupate delle banche toscane pensate alle banche pugliesi e alle banche venete, ciò vorrebbe far intendere che ci sono delle problematiche come quella di MPS dove il Partito Democratico si è autofatto dei prestiti che non ha restituito, che ci sono gli stessi problemi in Veneto e in Puglia. Io non ne volevo, sa che le ho chiesto delle elezioni però, perché Renzi l'abbiamo chiesto delle elezioni però, perché Renzi l'abbiamo chiesto di direzza, l'abbiamo anche chiestato, voglio parlare anch'io, perché è ritenuta una serie di stupidaggini che non finisce più. No, l'ha detto Renzi, se Renzi ha detto una stupidaggini, se Renzi ha detto una stupidaggini non lo dica, se Renzi ha detto una stupidaggini non lo dica, lei sta raccontando una stupidaggini rispetto alle elezioni, non la sento più però perché mi parla sopra, non l'ho sentita, no, chiedevo alla Moranica. Non l'ho sentita perché, ah perfetto, prego. Le chiedevo se ci conferma la sensazione che si ha, non appena uscite dalla direzione di ieri, dunque tutto rimandato, fine legislatura, 2018, niente urne anticipate, questo ce lo può confermare? Ma intanto per noi la giornata di ieri è stata una giornata importante perché a differenza del Movimento 5 Stelle che prende ordini da Grillo o da Casaleggio senza poter dire assolutamente niente, noi ieri ci siamo confrontati invece sulle cose importanti per l'Italia, cioè ci siamo confrontati sui temi del lavoro, ci siamo confrontati sulle nuove destre che avanzano, ci siamo confrontati sui temi della scuola. Quindi quella di ieri per noi che discutiamo e non prendiamo ordini è stata una giornata molto importante e tra l'altro io sono qua senza avere il benestare di nessuno, a differenza dei parlamentari del 5 Stelle che debbono avere il visto, si parli da parte di Casalino o da qualche altro ha detto stampa di Grillo. Cioè non c'è libertà di parola Sorial da voi? Io sto parlando tranquillamente, sono qua ospite e siamo spesso ospiti delle vostre trasmissioni, anzi è importante per noi intervenire visto che in questi giorni siamo sotto un attacco mediatico che ripeto secondo me è dovuto solo al fatto che siamo particolarmente alti nei sondaggi e stiamo facendo molto per i cittadini. Si ferma da lei in questo senso, prego onorevole Morani. No ma non mi invento niente perché lo ha scritto il loro capo politico che non possono parlare senza avere il benestare degli uffici stampa. Le elezioni per noi rimangono un obiettivo come naturalmente abbiamo dichiarato, il prima possibile se si può fare a giugno benvengano a giugno, naturalmente non è nelle nostre mani ma nelle mani del Presidente della Repubblica. Noi abbiamo proposto il Mattarellum come legge elettorale, vediamo se le altre forze politiche vorranno approvarlo assieme a noi, noi è un po' che l'abbiamo proposto ma ci pare che non vi sia da parte delle altre forze politiche, benché a suo tempo dissero che il Mattarellum poteva essere una buona legge elettorale, oggi non c'è adesione rispetto a questa legge elettorale. Noi naturalmente ci auguriamo che le elezioni si possano fare il prima possibile perché vogliamo confrontarci su un'idea di paese, la nostra idea di paese è quella di un paese che cresce, oggi i dati del PIL sono migliorati anche rispetto allo scostamento della manovra, le cose stanno andando meglio, so che quando andiamo meglio non è una buona notizia per coloro che propugnano la decrescita felice, noi invece vogliamo continuare a far crescere il paese, continuare a far crescere i posti di lavoro e continuare in questa opera di risanamento che stiamo facendo ormai da un po' di anni, alcune cose vanno modificate ma ci candideremo proprio per questo, perché vogliamo cambiare il paese. Ne vedremo delle belle considerando quello che ha detto Bersani, glielo ripeto, lo ripeto ai telespettatori, lo ha detto in Transatlantico, in Parlamento poco fa parlando appunto del fatto che la scissione di fatto è già avvenuta, da Renzi ho visto solo dita negli occhi, dice Pierluigi Bersani, io lo devo salutare perché c'è la pubblicità, grazie onorevole Sorial, a presto Movimento 5 Stelle, onorevole Alessia Morani, ci vediamo presto, arrivederci, Noi torniamo qui, tra poco c'è un flash del telegiornale